Buonasera, oggi parleremo dell'inezolid nella serie gli antibiotici in un flash. L'inezolid è un antibiotico sintetico appartenente alla famiglia degli oxalzoidinoni. È attivo limitatamente ai gran positivi, cocchi e bacilli, aerobi e anaerobi. Sullo stafilococco MRSA è resistente ad altri farmaci come l'avancomicina, sugli enterococchi vi è resistente all'avancomicina, streptococchi, peptostretococchi, clossidium e nocardia. Il meccanismo di azione lo potete vedere nel video sul mio canale YouTube. Il linezolid agisce interferendo con la produzione delle proteine batteriche. Viene eliminato per via renale e può essere somministrato sia per via orale che per via endovenosa. L'emivita nella somministrazione in vena è inferiore rispetto a quella orale. Ha un pericolosissimo effetto collaterale che è la soppressione midollare sia della serie rossa, della serie bianca che delle piastrine con anemia, leuropenia e trombocitopenia. Ha anche altri effetti collaterali fra cui un'acidosi lattica, una neurite ottica che è reversibile e la comparsa di neuropatie periferiche che possono anche essere irreversibili. Le indicazioni sono varie, le polmoniti sia nella forma ospedaliera che quella associata al ventilatore, infezioni dell'acuta e dei tessuti moldi, infezioni addominali e meningiti. Possono, può avere delle interazioni, soprattutto con i serotoninergici SSRI, con gli antidepressivi triciclici e può condurre a una sindrome serotoninergica. Bisogna evitare l'uso concomitante con i inibitori dell'EMAO e con altri inibitori dell'EMAO reversibili di tipo A e di tipo B, come la Moclobemida e la Seligina. Potenzia l'effetto ipertensivo delle amine ed è controindicato nei pazienti con ipertensione mal controllata, con feocromicitoma e con la tirotossicosi. Per la posologia lanciamo l'app Antibiotici in terapia intensiva Dosaggio secondo Clearance. Ecco, lanciamo la nostra app e valutiamo il dosaggio dell'InezoLid inserendo il peso 75 kg e la Clearance, la prima abbastanza normale 95 kg. Vediamo l'InezoLid che cosa ci dice. Ecco, la somministrazione viene fatta in 12 ore e se somministrato in 2 ore avremo un effetto batteriostatico, concentrazione dipendente. Se vogliamo avere un effetto battericida e quindi un effetto tempo dipendente, lo dobbiamo utilizzare in infusione continua. Facciamo un reset, ripetiamo lo stesso peso ma con Clearance molto spinta. Anche qui vedete che la situazione è praticamente invariata, invece se andiamo alla Clearance ancora più spinta non ci sono grossi problemi. Però è sempre meglio monitorare, vedete in fondo, monitorare la funzione, la funzionalità del rene. Ok, io vi ringrazio e alla prossima. Ciao a tutti.